Un minuto di silenzio per Mobi e Suviana. In consiglio sono stati ricordati l'anniversario della tragedia di Livorno e le vittime del recente incidente alla centrale Enel. ERP ha approvato il piano di cessione del patrimonio di edilizia residenziale. Un minuto di silenzio in consiglio regionale per ricordare le vittime sul lavoro sul lago di Suviana e l'anniversario della tragedia della Mobi Prince. Lo ha chiesto in apertura di seduta il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sentiamo le interviste relative alla commemorazione del Mobi Prince. La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento che ha unito la tragedia dell'Emilia al ricordo di quello che è accaduto nella rada del porto di Livorno. È una strage che ancora chiede e pretende verità e giustizia e il consiglio regionale della Toscana ancora una volta ha ribadito il posizionamento, ovvero al fianco dei familiari delle vittime fino a quando non sarà fatta piena luce su questa terribile vicenda. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia dopo 33 anni ancora a buio. Per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime e qui in consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico perché questa vicenda ancora non ha la verità. E questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie, ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni. Sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia. Perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. Ancora oggi saremo a Livorno a dire mai più un dramma del genere e soprattutto verità e giustizia di nuovo. Perché è l'unica cosa che può allenire, anche se solo minimamente, il dolore di questo dramma che diventa infinito e che ogni giorno che passa aggiunge soltanto attesa a quello che è la conclusione che invece tutti vorrebbero avere per far trovare pace e anche riposo alla memoria di queste persone che hanno perso la vita. E adesso il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, sulla tragedia alla centrale Enel di Suviana. Ieri eravamo in aula quando abbiamo appreso questa terribile notizia, l'ennesima morte, l'ennesime morti sul lavoro. Fin quanto soltanto una persona continuerà a morire sul lavoro, ognuno di noi deve sentirse in parte responsabile. Chi ha possibilità di incidere nelle istituzioni, nelle istituzioni. Io voglio ringraziare pubblicamente il lavoro importante della protezione civile, anche quella toscana, che è subito a corsa lì, dei vigili del fuoco, dei volontari, della polizia. Un grande lavoro. E soprattutto mandare un abbraccio di vicinanza alle famiglie delle vittime e ringraziare anche i nostri ospedali, l'ospedale di Cisanello, a Pisa, che ha accolto uno dei feriti. C'è un lavoro di tutti perché quando accadono situazioni come queste non puoi voltarti dall'altra parte. Il Consiglio regionale ha approvato il piano di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, respingendo nel contempo una proposta di legge a firma dei consiglieri di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci e Francesco Torselli, finalizzata a rinnovare ed estendere il patrimonio ERP. Sentiamo le interviste. Noi abbiamo fatto in commissione, prima che in consiglio, una discussione importante durata molto tempo. Abbiamo udito le parti sociali, abbiamo udito gli uffici, abbiamo analizzato i dati. Insomma, mi pare che su questo sia chiaro un elemento, e cioè che le politiche abitative richiedono più risorse. Mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per i fondi affitti, per l'amorosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio, ma vuol dire ridurlo. Tant'è che noi, i dati che ci hanno portato, è che per comprare una casa nuova ci vogliono tre vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite e i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi. Quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia, al di là delle volontà di tutti, sono tutte quelle proposte che sono venute dall'opposizione che sono proposte di bandiera perché, se guardiamo il piano degli ultimi cinque anni, negli ultimi cinque anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi, quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP. Erano vendibili 1.400 alloggi e ne sono stati venduti 178 in cinque anni. Perché le persone che vanno nelle case popolari sono persone che non hanno disponibilità economica e quindi hanno scelto di non comprare. Quindi mettere ulteriori alloggi è solo una misura demagogica per andare in giro a dire che, insomma, si potrebbe trovare risorse che non si sono volute trovare. In realtà, da quella misura, che comunque sarebbe una misura ingiusta, non si trovano neanche le risorse. Il giudizio è nettamente negativo perché si tratta della solita manovra identitaria, una foglia di fico rispetto a una soluzione di un problema molto esteso. Ricordo che, come dice il rapporto IRPET di marzo di quest'anno, nel 2022 i nuclei familiari che usufruiscono di alloggi ERP sono 45.000, di fronte a un bisogno di 124.000 famiglie, di cui il 53.000 in povertà assoluta. Ora, pensare che limitare il numero delle persone che accedono agli alloggi ERP perché hanno immobili nei loro paesi di origine è assolutamente assurdo. Primo, perché queste persone scappano dalla guerra, dalla fame, dalla siccità e molto probabilmente non hanno niente nei loro paesi di origine. Molto difficoltoso l'attuazione di un accordo internazionale per accedere ai catasti dei paesi stranieri, anche perché molto spesso in questi paesi o c'è la guerra o non ci sono catasti. Quindi una misura veramente inconsistente e superficiale. Poi vorrei ricordare che di fronte a una misura come il Fondo Sociale per l'Affitto che riesce a dare una risposta maggiore a un maggior numero di famiglie, il governo nel 2024 ha zerato completamente il fondo. Rimangono solo le risorse di regione e comuni. Quindi io vorrei capire come intendono risolvere il problema al di là di queste manifestazioni esclusivamente elettorali che parlano alla pancia delle persone senza spiegare la portata del problema. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in gradatoria da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni. Con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro, possiamo ristrutturare tutti i 5.000, i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in gradatoria e costruire di nuovi. È una proposta di buon senso. Ahimè, la sinistra ha votato contro, noi la ripresenteremo nei prossimi anni. Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una mozione in merito all'intervento comportamentale personalizzato basato sui principi ABA e agli altri progetti terapeutici destinati a minori con disturbo dello spettro autistico. L'atto di indirizzo, inizialmente presentato dalla Lega, primo firmatario e il portavoce dell'opposizione Marco Landi, è stato approvato nel testo sostitutivo che accoglie emendamenti sottoscritto da tutti i gruppi consigliari. Sentiamo le interviste. È stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale un mio atto di indirizzo affinché le persone che vivono nello spettro autistico possono continuare nelle loro terapie, in particolare la terapia ABA e quindi tutti i percorsi anche paralleli a questo. è un fatto anche di dignità perché nel 2023 erano stati negati i rimborsi e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre asle perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema dei rimborsi e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli che vivono nello spettro autistico di poter avere rimborsi. Poi chiaramente questo atto vuole anche dare sostegno alle famiglie vuole dare maggiore inclusione a queste persone e quindi io credo che oggi sia stato fatto qualcosa di importante perché è un fatto che aveva scandalizzato un po' tutti e finalmente si riporta in linea fino a quello che era successo nel 2022 su questo tema e quindi il Consiglio regionale tutto ha approvato questo atto e quindi esprimo veramente soddisfazione. È un documento importante è un documento di rionoscere dei diritti che le famiglie e soprattutto i ragazzi affetti dalla sindrome di autismo aspettavano. La questione per quello riguarda per dire le risorse per sanare perlomeno le richieste che erano state fatte nel 2023 dalle famiglie con handicap soprattutto le famiglie di figli autistici. La questione del percorso ABA percorso ABA che il 31 maggio vedrà a concludere il tavolo voluto dal Ministro a Roma per capire se il percorso ABA è un percorso che dà dei frutti positivi. Possiamo dire che ieri in un'audizione il Governatore ci ha detto che tutte le persone che hanno incontrato hanno detto che questo è ha dato anche una disposizione che dice che là dove fino ad oggi sono stati riconosciuti questo tipo di servizio si continua a farlo là dove invece non è stato riconosciuto in assenza di una direttiva precisa da parte del Governo questo non avvenga. Il 31 maggio si chiarirà tutto però questo documento che esce dal Consiglio regionale la consideriamo una vittoria perché sono mesi che noi ci spendiamo in realtà io sono anni e mi spendo sull'autismo sia per quello che riguarda la questione didattica dobbiamo considerare che in Toscana mediamente ogni 120 bambini nasce un bambino affetto ad autismo fortunatamente le diagnosi sono sempre più precoci questo mette in condizione questi ragazzi di essere seguiti subito diciamo dall'infanzia più tenera è importante dare a loro però anche un percorso scolastico cercando di fare il massimo della formazione cosa che purtroppo ancora oggi non avviene per gli insegnanti d'appoggio perché quasi tutti questi ragazzi soprattutto quelli ad alta e media funzionalità hanno capacità e specificità che se supportate e coltivate poi possono diventare risorse straordinarie per tutta la comunità quindi come Italia Viva siamo contenti di essere arrivati a questo documento peraltro votato all'unanimità in consiglio regionale Chiudiamo con lo sport l'associazione Pedale Pesciatino ha presentato a Palazzo del Pegaso il ricco programma di corse ciclistiche in calendario tra primavera ed estate in provincia di Lucca si inizia domenica 14 aprile con la prima edizione della Gran Fondo Puccini Città di Lucca poi sono in programma la seconda edizione della Gran Fondo del Vento la ventiseiesima edizione della Gran Fondo Versiglia la quinta edizione della Tuscany Extreme e la prima edizione della Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana le interviste Sì, sono qua a questa presentazione Gran Fondo Città di Lucca fa molto piacere perché quando si tratta anche il mondo sciloturistico è bello perché si pedala non saprò ancora se sarò presente domenica prossima però vediamo di esserci e niente, fanno sempre piacere come ti ripeto queste cose si è formato anche un circuito a livello toscano di questo Gran Fondo so che sono cinque e speriamo di partecipare a alcuna anche con la mia presenza pedalando insieme agli altri amatori noi come federazione quest'anno abbiamo deciso di investire sulle Gran Fondo era un settore che negli ultimi anni prima del Covid era stato un po' lasciato un po' andare però effettivamente noi abbiamo bisogno di tutto il movimento partendo dai piccoli, diciamo dai bambini ma arrivando fino agli amatori perché poi questo nostro mondo si muove sostanzialmente tutto insieme e spesso gli amatori sono quelli che portano avanti le attività che poi servono per i ragazzi secondo me le Gran Fondo sono uno di quegli aspetti particolari legati al cicloturismo che sarà la prossima frontiera del cicloturismo quindi di un turismo legato allo sport specialmente la bicicletta che si adatta in modo perfetto quindi siamo noi che andiamo nei luoghi invece di portare le persone che vengono da noi e questo è secondo me la parte che ci fa più piacere la Gran Fondo di Lucca ritorna è un'occasione anche particolare perché Puccini è un'occasione unica e poi dopo è una zona che si presta molto alla bici è una tradizione molto molto impegnativa sono sicuro che verrà fuori un bel evento so già che ci sono un numero di iscritti molto molto importante che non ce l'aspettavamo nemmeno sinceramente però ci dà conferma che la strada è quella da seguire e quindi cercheremo poi di portarla avanti con altri sette eventi che sono già in programma questo è il primo e quindi sono molto contento che sia partito bene Grazie a tutti